Con Psi Plus e Intersos abbiamo pensato di organizzare quattro eventi all'interno di una rassegna culturale di eventi musicali e abbiamo deciso di chiamarla la festa del ritorno perché è in questo periodo che la popolazione era entrata sul territorio. Abbiamo scelto come luogo il campo sportivo di Accumoli perché è proprio in quel luogo che le due associazioni, il 26 agosto del 2016, hanno conosciuto e incontrato per la prima volta le persone accumolesi. All'interno di questa rassegna io mi sto occupando di coinvolgere la popolazione rispetto alle tradizioni culinarie. Si leghiamo all'interno delle case, parliamo loro di come si svolgeranno queste serate e gli chiediamo di preparare dei piatti tipici da condividere con gli altri. Devo dire che le persone si sono mostrate subito interessate e aperte a questa possibilità parlandoci di tradizioni antiche e volendo condividere con noi queste ricette. Abbiamo scelto di festeggiare con quattro serate, abbiamo proposto per la prima sera Andrea Piermattei che è un cantautore abruzzese che vive a Bologna. Nella seconda serata abbiamo avuto Rocco Fiore che è un altro cantautore di Potenza. Terza serata agli Alta Quota, serata danzante di organetto con vari ospiti. La quarta serata che chiude la rassegna è una serata di karaoke condotta da Enrico Lombardi. La quarta serata è un cantautore di potenza. La quarta serata è un cantautore di potenza.